Buonasera, siamo a mezzanotte, è venuto e vorremmo comunicare il risultato del nostro fantastico sondaggio. Dopo aver tra le volte richiesto quale sarebbe stato il luogo preferito per il nostro gruppo, e dopo che la nudica ha tentato di rivistare il nostro sondaggio e insinuandosi come il peggiore dei ratti, sono felice di dirvi che è… che adesso… sappiamo che il luogo dunque sarà… Allora non è cambiato niente, buonanotte a tutti!